La guerra al nostro cibo non si limita agli agricoltori, ma colpisce anche i pescatori. È un progetto per far fuori gli agricoltori. Va sempre peggio. Ora vogliono far fuori 3.000 grandi inquinatori di azoto. Rob, grazie per essere qui. È un piacere. Può aggiornarci su quello che è successo agli agricoltori olandesi la scorsa estate? A che punto è il piano di riduzione dell'azoto? La situazione è peggiorata perché ci sono più regole imposte da Bruxelles. E non sembra che il nostro governo stia cercando di risolvere il problema. Anzi, crea ulteriori problemi mirati a eliminare i nostri agricoltori. Ed è davvero ridicolo perché sono loro a produrre il nostro cibo. L'ultima volta che ci sono stato, il governo aveva presentato un nuovo piano per colpire prima le aziende agricole più grandi. Giusto? E molti agricoltori hanno tirato un sospiro di sollievo. Hanno pensato, certo, è uno schifo, ma almeno la mia azienda è salva. Ma sembrava una strategia interessante. Una sorta di strategia del divide etim per A, tipo, ok, ci occuperemo del 5% delle aziende agricole, ma finito con quelle, ci occuperemo del 5% successivo. L'annunciato 5% è stato effettivamente implementato? Sì, stanno letteralmente dividendo gli agricoltori con i soldi dei contribuenti. Vogliono sbarazzarsi di 3.000 grandi inquinatori di azoto. Non credo sia la definizione giusta, ma è così che il governo li vede e gli dà un sacco di soldi. Quindi alcuni agricoltori ricevono un sacco di soldi e dicono, ok, per me è accettabile, e lasciano la loro attività. E ce ne sono altri che vogliono lottare, ma sono divisi. Non sono più uniti. È questo che stanno facendo. E la situazione è peggiorata. Sono un parlamentare europeo. Ora c'è una nuova legge. Una legge per ripristinare la natura. Ciò significa che prima avevamo questa Natura 2000. Tutte aree in cui la natura doveva essere preservata. Ma con questa nuova legge che arriva da Bruxelles, tutto il nostro paese diventa un'area Natura 2000. Quindi ci sono agricoltori che ora sono, diciamo, al sicuro. Ma è questione di tempo. Forse un anno. Forse due. E hanno lo stesso problema. Quindi, gli agricoltori devono davvero lottare ora. Al pubblico americano, quello che ha appena descritto appare scioccante. Perché qui non abbiamo un organismo sovranazionale come lui che ci dice, Ehi, non puoi fare questo o devi fare quest'altro. Quindi è davvero impressionante. C'è un'opposizione nei Paesi Bassi contro questo tipo di organismo globalista, o non globalista, ma comunque eurocentrico, che dice, ora siete tutti un'area Natura e dovete tutelarla. Dovete mantenere questo livello di azoto per sempre. A prescindere da quante industrie ci siano. C'è qualche opposizione nel Paese. Il nostro governo non è disposto a reagire. Questo è... Penso che ci sia molto sostegno per gli agricoltori e anche per i pescatori, perché hanno lo stesso problema. È davvero ridicolo. I piccoli pescherecci devono sparire, però poi arrivano queste grandi navi. Ed è evidente che vogliono eliminare l'attività della pesca. Qui stanno proprio attaccando la nostra catena alimentare, non solo gli agricoltori, ma anche i pescatori, che sono parte integrante della cultura olandese. E il nostro governo non ha in programma di sbarazzarsi degli agricoltori. Non combattono la gente, ma sostengono gli agricoltori. Ma il problema è che i nostri media principali danno un'immagine sbagliata della situazione. Quindi la gente non è ben informata. Quando vado in Olanda e leggo i giornali, mi stupisce sempre il modo in cui presentano i fatti. O bianco o nero, gli agricoltori sono cattivi, le politiche climatiche buone. Ma dopo aver parlato con gli agricoltori, con gli scienziati e con i parlamentari, ho capito che non è così. Gli agricoltori dispongono di tecnologie per ridurre l'azoto. E la questione stessa se troppo azoto sia un male non ha neanche molto senso, perché l'aumento di azoto non è necessariamente dannoso. Quindi è evidente come i mass media vogliano indottrinare le persone. Sì, assolutamente. L'azoto è necessario per la coltivazione. E loro hanno creato una natura adatta ai propri bisogni senza alberi. Ma nel passato, i Paesi Bassi erano una grande foresta. Poi, nel XVII secolo, la popolazione è cresciuta. Avevano bisogno di legno. Costruivano le navi per venire negli Stati Uniti. E anche le case. E poi la gente doveva riscaldare le case. Per cui, molte di queste foreste sono scomparse. E queste aree sono diventate una specie di deserto. E questa è la natura che dobbiamo preservare. Ma è davvero pazzesco. Si guarda solo a un determinato momento della storia. Io ho 56 anni. Quando ero piccolo, vedevo solo due o tre tipi di uccelli in giardino. E di pesci nell'acqua. Ora vedo ogni tipo di uccelli. Forse 20 o 30. Solo nei quartieri abitati. Abbiamo fatto molto bene negli ultimi 40 anni. Dal 1990, i nostri agricoltori hanno ridotto l'azotto del 66%. È stato un lavoro straordinario. Attaccano gli agricoltori. Ma abbiamo anche l'industria aeronautica, di cui nessuno parla. Assurdo. Abbiamo bisogno degli agricoltori. Dopo gli Stati Uniti, siamo il secondo produttore di frutta al mondo. I nostri agricoltori sono efficientissimi. Se non produciamo il cibo qui, dovrà essere prodotto altrove. Dove gli agricoltori non sono efficienti come quelli olandesi. Ma se si vuole davvero salvare il pianeta, bisogna considerare la situazione globale. E se si sostituiscono i nostri agricoltori, sarà la stessa cosa da qualche altra parte, perché abbiamo 8 miliardi di vite su questo pianeta. Quindi si riduce tutto all'idea di scelta personale, di libertà personale. Libertà di coltivare. Libertà di votare persone che rappresentino noi, invece dei burocrati dell'UE con i loro diktat. C'è un filmato molto popolare in cui lei interrogava un dirigente Pfizer. Credo che fosse al Parlamento europeo. Sì. Lei ha fatto una domanda molto interessante. Può raccontarci com'è andata? Sì, abbiamo chiesto al signor Burla di venire in Parlamento. Perché Burla... L'amministratore delegato di Pfizer. Sì, l'amministratore delegato di Pfizer e la presidente della Commissione europea, la von der Leyen, si sono scambiati dei messaggi. Noi, nell'Unione europea, abbiamo comprato 71 miliardi di euro di vaccini. Secondo le mie stime, 35-40 miliardi di euro sono andati alla Pfizer. Volevamo quindi vederci chiaro in questi messaggi. Il New York Times è partito da lì. Hanno chiesto informazioni che non sono state fornite. E volevamo che il signor Burla venisse davanti alla nostra commissione speciale di indagine. Ma Burla non è voluto venire. E ha mandato Janine Small. Io credo di averla resa famosa. Le ho chiesto, il vaccino Pfizer è stato testato rispetto al blocco del contagio prima di essere immesso sul mercato? E lei, no, perché noi dobbiamo muoverci alla velocità della scienza. Il vaccino Covid-Pfizer è stato testato per il contagio prima di essere immesso sul mercato? Se no, lo dica chiaramente. Se sì, è disposta a condividere i dati con questa commissione? Voglio una risposta chiara, sì o no. E non vedo l'ora di riceverla. Grazie mille. Per quanto riguarda la domanda, sapevamo dell'interruzione dell'umanizzazione prima che entrasse nel mercato? No. Abbiamo dovuto muoverci alla velocità della scienza per capire davvero cosa stesse succedendo sul mercato. Ovviamente io sapevo la risposta, perché con la variante Omicron tutti i vaccinati sono stati i primi a essere infettati da Omicron. Quindi conoscevo già la risposta, ma lei l'ha ammesso. E questa è stata la prima volta i nostri governi, sia negli Stati Uniti che in Europa, hanno spinto tutti, anche le persone giovani e sane, a fare questa iniezione di mRNA. Non solo per se stessi, ma anche per fermare il contagio. Questo era il messaggio, per fermare la trasmissione. Sì, ti vaccini per tutta la società, lo fai per il bene altrui, per tua nonna e tuo nonno. Ma questa era una vera e propria menzogna. Soprattutto per i giovani. Perché, come ho visto nei Paesi Bassi, mio figlio di 20 anni mi ha detto, papà, penso di vaccinarmi, perché ho problemi con l'università. I miei amici sono tutti vaccinati. Vanno al ristorante e nei bar e io non posso fare nulla. E io gli ho detto, ti prego, non farlo. Io non sono contro i vaccini. Ho detto ai miei genitori, voi forse rischiate. Sono piuttosto anziani. Mia figlia aveva 24 anni. Mio figlio 20. Dissi, per favore, non fatelo. Non conosciamo gli effetti a lungo termine di questo cosiddetto scudo mRNA. Lo chiamano vaccino, ma non lo è. L'hanno chiamato vaccino solo per propaganda, perché i vaccini sono accettati dalla società. Era tutto marketing. Quindi io non sono un Novax, ma è una scelta individuale. Dipende dalla situazione individuale. Se si è vulnerabili, se si è in sovrappeso, se si è affetti da diabete. In democrazia c'è libertà di scelta, ma loro l'hanno tolta e hanno spaccato la società, le famiglie, gli amici, i colleghi. È stato orribile. La libera scelta è un diritto umano inalienabile e ci hanno provato anche col vaiolo delle scimmie. Non riuscivano più a vendere il vaiolo delle scimmie. L'ultima domanda. Il Parlamento europeo ha reso pubblici quei messaggi tra il presidente della Commissione europea e l'amministratore delegato di Pfizer. Sono stati resi noti? E se sì, cosa dicevano? No, non sono ancora stati resi noti. Credo che la New York Times abbia fatto causa contro di loro. Io faccio parte della Commissione parlamentare e sono riuscito a raggiungere la maggioranza per poter chiedere alla von der Leyen di rispondere alla Commissione, perché si tratta di soldi pubblici. Abbiamo bisogno di trasparenza. Ho convinto i verdi e ho convinto i socialisti e solo i cristiano-democratici e i liberali non hanno partecipato. Ora abbiamo raggiunto un accordo per cui la von der Leyen verrà interrogata dalla conferenza dei presidenti dove siedono solo i presidenti dei gruppi e si risponde alle domande a porte chiuse. Per cui non avremo risposta. Questa è davvero una vergogna. Dicono che siamo una democrazia. Ma se non sei trasparente, non sei una democrazia. Sei una tirannide. Non rispondi al popolo. Ed è quello che sta accadendo. Spero che il New York Times riesca a fare luce. Io me ne occuperò finché avrò vita. Grazie, signor Rus. Grazie a lei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti